Io non avrei mai pensato che potesse succedere anche a me, ma quei due ragazzi erano così carini, educati, quindi li ho fatti entrare e poi avevano un testellino che io non ho verificato in effetti. Sinceramente io sono rimasta così male che mi sono vergognata di me stessa. Le truffe agli anziani sono sempre più sofisticate. Chiedi subito aiuto a chi ti è vicino oppure chiama la polizia locale al numero dedicato. Truffe agli anziani. La prudenza non ha età. Grazie.